Fa discutere la conta dei danni del maltempo a Roma e nel Lazio. La regione fa un primo bilancio di 104 milioni di euro, mentre il Campidoglio ha deciso di darsi ancora 24 ore per quantificarli in base alle segnalazioni dei singoli municipi e degli uffici. Il sindaco Ignazio Marino vuole chiedere al governo lo stato d'emergenza per la capitale. Il Campidoglio ha annunciato l'immediato stanziamento di 10 milioni di euro, una decisione non condivisa dall'assessore al bilancio Daniela Morgante, contraria per ragioni tecniche all'immediato sblocco dei fondi. I soldi dovranno servire a costituire un fondo che possa essere utilizzato dai cittadini che hanno avuto le case allagate ma anche dai commercianti per riavviare subito le attività. Da Roma Capitale si fa sapere che saranno rivisti i piani di investimento perché la legge prevede di sbloccare i fondi fermi per il patto di stabilità proprio in presenza di situazioni straordinarie come questa. Anche le imprese e le attività commerciali fanno i conti col maltempo. Secondo la Confesercenti il valore dei danni ammonta 5 milioni di euro. La media vanno dai 15 ai 20 mila euro ad esercizio. Anche molti istituti scolastici hanno subito danni. L'Associazione dei Presidi lancia un appello. Se grosse imprese hanno sponsorizzato il restauro del Colosseo ora si occupassero anche della ristrutturazione delle scuole.